Da lunedì 18 gennaio l'asilo primo maggio di Pile riaprirà le sue porte per 38 bambini. Un atto reso possibile grazie all'intervento della giunta comunale che ha colto una proposta dell'assessore Emanuela Di Giovan Battista. Saranno tre le sezioni nelle quali 38 bambini verranno inseriti. È stato possibile riaprire questa struttura comunale la cui chiusura scatenò reazioni vementi e proteste da parte di genitori ed educatori grazie al rinnovo del contratto a tempo determinato del personale assunto sulla base della normativa emergenziale e scaduto lo scorso 30 settembre del 2015. Allo stesso tempo il settore politiche e sociali del comune ha provveduto a pubblicare un avviso per formulare una nuova graduatoria per i nidi comunali e privati autorizzati. L'amministrazione comunale finora aveva potuto riaprire soltanto l'asino nido di via Ficara. Qui sono stati inseriti 60 bambini a cui si aggiungono quelli ammessi a casetta fantasia e nei nidi privati ma convenzionati con il comune dell'Aquila. Una buona notizia per educatori, genitori e bambini che potranno così tornare in una scuola che ha sempre rappresentato un'eccellenza nella città dell'Aquila, peraltro uno dei primi asili comunali in città, il più antico.